Perché non te la prendi con qualcuno grande come te? Un attimo solo. Homosauro! Arrenditi e la tua morte sarà misericordiosamente veloce. Non dargli retta, Ben! Sì, c'è qualcuno un po' più grande di Homosauro. Non osate interferire in questa sfida. Non saremo noi a farlo. Era ora. Adesso il simpaticone avrà un piccolo assaggio di gigante. Croboraggio! Oh, cavolo! Che hai intenzione di fare, Spaccone? Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Oh! 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 No! Beh... Ho vinto! Sono il vincitore!